Hai voglia di migliorarti? Di ottenere di più? Per te c'è Pegaso, l'università telematica numero uno in Italia. Abbiamo un metodo di insegnamento all'avanguardia e docenti di alto profilo. Per la tua laurea, corsi post laurea o per migliorare il tuo lavoro. Chatti con professori e studenti e ci sono più di 76 presenti in tutta Italia. Scopri il resto su unipegaso.it Pegaso, per diventare il numero uno. Scegli la numero uno.